Giornale Radio Nuova Bisogna spogliarsi da ogni pretesa di possedere in proprio forza e potere. Tutto viene da Dio. Vivete il vostro sacerdozio con una profonda devozione mariana. Non dimenticate il forte radicamento della nostra diocesi nella Civitas Marie ed affidatevi sempre alla protezione della Mater Misericordia a cui vi affido prima di tutto io assieme a tutti i nostri sacerdoti, i nostri diaconi e tutto il popolo santo di Dio. Ulteriori approfondimenti in Oltre i titoli alle 13.30 e 20. Veniamo ora alla situazione della pandemia da Covid-19. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.398 tamponi, 1.311 nel percorso nuove diagnosi e 1.087 nel percorso guariti. I positivi sono 86 nel percorso nuove diagnosi, 31 nella provincia di Ancona, 16 nella provincia di Ascoli Piceno, 14 nella provincia di Fermo, 13 nella provincia di Macerata, 12 nella provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono soggetti sintomatici, 21 casi rilevati, contatti in setting domestico, 20 casi, contatti stretti di casi positivi, 17 casi, un rientro dall'estero, Romania, contatti in setting lavorativo, 5 casi, contatti in ambiente di vita, divertimento, 6 casi, contatti in setting assistenziale, 4 casi, contatti in setting scolastico formativo, 9 casi. Di 3 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Per tutti gli aggiornamenti vi rinviamo al sito regione.marche.it e radionuova.com. In merito alla presenza di pubblico in occasione di eventi sportivi sul territorio marchigiano, la regione ha già adottato un decreto della presidenza che consente la partecipazione di massimo mille spettatori per gli impianti sportivi all'aperto e di 200 per gli impianti sportivi al chiuso. La situazione epidemiologica in atto è costantemente monitorata dai servizi competenti della regione, così come l'evoluzione della normativa, che è stata ulteriormente modificata dal governo nazionale con l'ultimo decreto legge 125, che ostacola le regioni ad adottare in autonomia deroghe alle prescrizioni nazionali. Il Comitato Scientifico Nazionale e il Gores Marche si erano già espressi formalmente in modo non favorevole rispetto all'incremento di pubblico. La regione ha chiesto al Ministero di poter comprendere come può ampliare, laddove ci siano tutte le condizioni, il numero consentito degli spettatori. Il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini ha visitato ieri alcuni comuni dell'entroterra marchigiano colpiti dalla sisma per verificare lo stato della ricostruzione, presiedendo a macerate i lavori in videoconferenza della cabina di coordinamento con i governatori delle quattro regioni colpite dalla sisma e i rappresentanti dei comuni. Nella riunione si è raggiunta un'intesa unanime sull'ordinanza che disciplina nuovi compensi per i professionisti incaricati dai progetti di ricostruzione, stabilisce la possibilità di utilizzare il super sisma bonus al 110% per coprire le spese eccedenti il contributo pubblico e agevolare la presentazione delle domande di riparazione dei danni lievi entro il termine del 30 novembre. Il commissario ha quindi visitato il comune di Sarnano. Con il sindaco Luca Piergentili e i tecnici del comune, Legnini ha visitato la frazione di Piobbico, interessata da una vasta farana, il cui studio deve essere approfondito per escludere o confermare l'ipotesi di una delocalizzazione. Erano le 19.15 di ieri quando una ragazza di 19 anni si è lanciata nel lago di Castreccioni dopo aver lasciato la sua auto sopra il ponte. Ad assistere alla scena un podista che ha prontamente allertato i soccorsi. Con lui anche un residente della zona ha intervenuto insieme ad altri due uomini per recuperare la giovane. Raggiunto il luogo con un'imbarcazione, uno dei soccorritori si è gettato in acque e ha trascinato la 19enne a bordo. La giovane è stata quindi affidata alle cure degli operatori dell'emergenza di Cingoli e della Piros di Apiro per poi essere trasportata a Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita. Si è concluso ieri ad Ancona il maxiprocedimento penale sul guru della macrobiotica con un patteggiamento a un anno e otto mesi per Mario Pianesi, 76 anni, e un anno e due mesi per la moglie, Loredana Volpi. Caduta l'accusa di riduzione in schiavitù, riqualificata in violenza privata per qualche sporadico episodio. Per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed evasione fiscale, il PM Paolo Gubinelli ha chiesto di archiviare. L'udienza davanti al GIP deve essere fissata. Caduta nel novembre 2019, l'accusa di omicidio volontario aggravato della ex moglie Gabriella Monti nel 2001. Escluse le responsabilità o incidenza delle diete macrobiotiche nel decesso. 20 milioni di euro per le strade provinciali. Il presidente della provincia di Macerata, Antonio Pettinari, ha annunciato ieri mattina in conferenza stampa insieme all'ingegnere Alessandro Mecozzi e alla responsabile del servizio amministrativo Piercarlo Bugari, l'investimento che caratterizzerà l'attività dell'ente per il settore viabilità fino al 2024. Ben 85 progetti, di cui alcuni già terminati. Sono 15 cantieri già conclusi, riferisce il presidente. In questi giorni si stanno concludendo quelli sulla Apirese e nelle prossime settimane quelli sulla provinciale Pian di Pieca, Monastero, Fiastra. I nuovi interventi, della somma complessiva di oltre 3 milioni di euro, devono essere effettuati e rendi contati entro il 31 dicembre 2021, anno in cui sono previsti 13 interventi per un importo complessivo di 3 milioni e mezzo di euro, 22 i lavori previsti nel 2022 e 2023 per un valore di 4,8 milioni ad anno e 12 interventi nel 2024 per un costo di 2,3 milioni di euro. Narratore straordinario, giornalista e telecronista sportivo, Federico Buffa è il grande ospite del sabato di Overtime. Questa sera alle ore 21 sarà in Piazza della Libertà a Macerate intervistato da Dario Ronzulli a raccontare alcune delle più grandi imprese che lo sport e i suoi protagonisti hanno regalato alle nostre esistenze. Buffa ha narrato per Sky Sport la vita e la carriera di grandi campioni, da George Best a Cristiano Ronaldo, passando per Michael Jordan e Muhammad Ali senza dimenticare le storie mondiali raccontate dallo storyteller per descrivere un secolo di sport e di vita. La giornata è ricca di protagonisti a partire dal regbista della nazionale Maxime Bandà che alle 15 riceve il premio Etica Sportiva promosso da Banca Macerata, Modera Edilio Venanzoni, poi Cristiano Militello, Marco Ardemagni, Filippo Solibello. Programma completo su OvertimeFestival.it Nella seduta di giovedì la Giunta Comunale di Civitanova Marche ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione urbana del sottopasso di Via Buozzi. L'opera rientra nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022. Il sottopasso pedonale di Via Buozzi è composto da due distinti percorsi, uno verso nord ed uno verso sud. La spesa per i lavori ammonta 35.000 euro. Sempre nella seduta di giovedì la Giunta ha approvato la manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale lungo il fosso Castellaro. Qui si provvederà alla rimozione delle radici delle piante che hanno sollevato il percorso, al rifacimento della sottostruttura con stabilizzato ove necessario, alla verniciatura finale della superficie con ripristino della segnaletica orizzontale. L'importo complessivo dell'opera sarà di euro 10.000. Approvato a Recanati è il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza che andrà a potenziare quello già esistente. Una rete di occhi studiati per garantire più sicurezza alla città, ai cittadini recanatesi e alla circolazione stradale gestito dalla Polizia Locale di Recanati che partirà dal centro città e mapperà le principali strade e aree periferiche. Il nuovo impianto prevede il controllo specifico nei parchi ubicati nel centro urbano ancora non videosorvegliati come Torrioni, Concilio, Parole Interrotte e Fonti San Lorenzo aree dalle quali in alcune occasioni sono arrivate alla Polizia Municipale segnalazioni di comportamenti a rischio creando tensione e preoccupazione per i residenti, cittadini e turisti. Il nuovo progetto di videosorveglianza proposto dal Comando di Polizia Locale prevede anche l'estensione del controllo con telecamere OCR in grado di leggere le targhe degli autoveicoli circolanti anche nelle aree extraurbane di collegamento con i comuni confinanti. 10 ottobre 1976 10 ottobre 2020 Radio Nuova Macerata in blu voce della città di Macerata e delle Marche Centrali compie 44 anni. Informazione, cultura, musica, religione e tradizione 24 ore su 24. Dopo tutti questi anni la radio è ancora un mezzo di comunicazione fondamentale come dimostrato nelle tante occasioni in cui la nostra emittente ha svolto servizi straordinari. Dalla racconto dei grandi eventi del territorio uno su tutti il pellegrinaggio Macerata-Loreto all'informazione di emergenza come è accaduto in alcuni dei più difficili e dolorosi momenti vissuti dai marchigiani. Qualche esempio il terribile terremoto del 2016 i fatti di Macerata di inizio 2018 la strage di Corinaldo l'emergenza Covid-19 tutto raccontato in diretta. Radio Nuova significa umanità. Chi ha bisogno di ascoltare una voce gentile vicina e familiare trova in Radio Nuova ben più di una semplice radio di provincia. Trova la vita di tutti i giorni raccontata in modo semplice e chiaro. Radio Nuova è la tua radio la tua famiglia da 44 anni. Secondo impegno in trasferta in Superlega Credem Banca per la cucina Lube Civitanova che domani ore 18 scende in campo all'Arena di Monza per affrontare il vero volley nella quarta giornata di andata del massimo campionato. Sarà la prima di due trasferte ravvicinate per i cucinieri. Mercoledì infatti Quanto Rene e compagni saranno di scena a Piacenza per la quinta di andata. Ma prima ci sarà l'ostacolo Monza ambiziosa formazione che ha aperto la stagione con una vittoria prestigiosa sul campo di Modena ma è andata poi incontro a due sconfitte consecutive. I biancorossi dovranno stare attenti alla voglia di riscatto dai Lombardi per centrare il quarto successo consecutivo in questo avvio di campionato dopo le vittorie a Verona e in casa con Ravenna e Trento. Nelle 13 gare giocate finora con la formazione Brianzola i biancorossi hanno sempre conquistato la vittoria. Monza va a caccia dunque del primo successo della sua storia contro la cucina Lube. Il tempo nelle marche In chiusura uno sguardo alle previsioni meteo per domani domenica 11 ottobre. Sulle marche avremo un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali schiarite nella seconda parte della giornata più probabili nel settore meridionale. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale più insistenti alla centro-sud nella prima parte della giornata mentre dal pomeriggio tenderanno a concentrarsi prevalentemente sul settore settentrionale. Temperature in aumento nei valori minimi in diminuzione nei valori massimi. Venti moderati dai quadranti meridionali a tratti forti nelle zone montane in rotazione da nord dal pomeriggio sul settore costiero centro-settentrionale. Mare poco mosso in mattinata mosso dal pomeriggio. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio da parte di Marco Morosini grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.